I just want you Tiida Platano e Riccardo Guarneri I due dopo l'esperienza Attemptation Slump si erano lasciati per ripresentarsi nel dating show media set dal single Poi ci hanno riprovato, ma, stando a quanto accaduto in studio, si sono separati definitivamente Uomini e donne. Tra Iida Platano e Riccardo Guarneri è finita.Nle anticipazioni di Uomini e Donne, svelano che Iida ha raccontato in studio ai suoi continui viaggi in Puglia per andare a trovare Riccardo e quest'ultimo, con delle scuse banali cercava di liberarsene subito Da Brescia a Tantanto non è una passeggiata, e comportarsi così non è da cavaliere Aveva i suoi motivi? Altronover l'uomo ha raccontato, che il suo carattere con quello della Platano, sono totalmente differenti, e che lui non riesce a tollerarla A quanto pare la dama è ancora molto innamorata di lui, infatti ieri pomeriggio ha cercato di ricucire il rapporto Stando agli spoiler, la Bresciana aveva preparato una sorpresa, ma è finita tutto in una bolla di sapone appena ha scoperto, che il Guarneri ha già un'altra Uomini e Donne Riccardo Guarneri tronca con Iida, e si consola con un'altra.Una notizia, che ha tagliato le gambe a Iida, che ha lasciato immediatamente lo studio di Uomini e Donne Riccardo, invece, è rimasto assistendo a tutta la registrazione. Il Guarneri non ha perso tempo a consolarsi tra le braccia di un'altra donna, e questo sembra aver messo un punto con la storia avuta con la Platano Resta il fatto che dopo la loro esperienza a tentazioni slambi il loro rapporto aveva preso una brutta piega e la rottura era inevitabile Resta il fatto che non si tratta di un'altra donna, e questo sembrava di un'altra donna, e questo sembrava di un'altra donna